Ciao a tutti amici di Studio 90, oggi vi faremo conoscere l'ultimo dei settori giovanili della nostra stagione. Ma chiudiamo in bellezza perché anche se oggi è una giornata di pioggia, ma siamo in un bellissimo campo dove è sovrastato dal centro storico di Nocera Umbra e quindi andiamo a conoscere da vicino. Iniziamo subito con noi, ci sono il presidente Emilio Anzuini, benvenuto. Buonasera. E alla mia sinistra abbiamo il responsabile del settore giovanile, Michele Pirmatti. Buonasera. Allora, presidente, iniziamo con lei. Una domanda sulla prima squadra è inevitabile. Soddisfatto in pieno o ha qualche rimpianto? Beh, un pochino di rimpianto ce l'ho perché al girone di andata eravamo primi in classifica con 9 punti di vantaggio, però è giusto così perché se andiamo a analizzare la stagione sicuramente è molto, molto positiva e devo ringraziare tutti i ragazzi che si sono impegnati per tutto il campionato. Adesso abbiamo avuto un po' di calo, comunque siamo dentro le play-off e vediamo cosa succederà. Certo. Ha mai interferito nelle scelte dell'allenatore per il bene della società? No, assolutamente perché prima di tutto non è il mio compito e poi personalmente lui è molto preparato e molto bravo anche. Perciò poi c'è una dote anche molto che sa tenere il gruppo praticamente. Il gruppo sicuramente è tutto. Penso insomma che non tutte le squadre riescono ad avere un gruppo come il nostro praticamente. Andiamo adesso da responsabile. Il suo ruolo è sicuramente prestigioso ma delicato, complicato perché richiede competenze e sacrificio. Sente il peso? Sicuramente è un bellissimo sacrificio, diciamo così. È frutto di tanta passione, di tanto entusiasmo che portiamo quando c'era e che sicuramente rispecchia un po' anche quello che è l'identità della società, una società che si basa su dei principi, quello del sociale, come vedete sono tanti ragazzi e quello del divertimento soprattutto, della passione e di far imparare quello che è il gioco del calcio a questi ragazzi. Certo. Uno degli obiettivi della società sicuramente è quello di portare più giovani possibili provenienti dal vivaio per la prima squadra. Ci state riuscendo? Beh, possiamo dirlo forte che ci stiamo riuscendo e questo è il nostro obiettivo. Tantissimi ragazzi dagli anni precedenti sono passati per la prima squadra, anche quest'anno, sicuramente è quello che sarà anche nei prossimi anni. Voglio sottolineare una cosa molto importante. La nostra società è formata dal 90% da ragazzi di Nocera Umbra che vivono nel nostro paese, nella nostra città e che giocano per la prima maglia. Dunque questo è anche uno stimolo in più per tutti a far bene, a far ancora meglio perché la domenica ci sono tantissima gente che ringraziamo che viene a vedere la partita dello stadio. E a proposito di questo, lei è uno di quei presidenti che dà fiducia ai giovani provenienti dal proprio vivaio oppure vuole un giocatore già esperto e pronto? No, assolutamente. Come diceva il direttore sportivo, il progetto nostro è proprio di portare in prima squadra più ragazzi possibili, anche perché la prima squadra è composta da tutti i ragazzi del posto, diciamo. No, l'obiettivo nostro è questo, è far crescere. Poi vediamo i risultati che passano in un secondo tempo. La prima cosa, il nostro progetto è far crescere i propri giovani e devo dire la verità, sono molto soddisfatto da tutti i collaboratori, tutti, diciamo, gli allenatori che proprio lavorano proprio in questo senso, capito? Prima l'educazione e il rispetto e poi dopo il risultato calcistico, insomma. Certo, quindi lei segue personalmente la crescita del settore giovanile? Assolutamente sì, come posso, anzi, quasi sempre vado a vedere i ragazzini perché sono uno spettacolo vederli giocare, specialmente i più piccolini. Immagino. Torniamo da responsabile. Lei è un po' un parafulmine tra i ragazzi, i loro genitori, gli allenatori, la società, insomma. Un ruolo anche questo complicato. Allora, quali sono le difficoltà che incontra quotidianamente e come ci riesce, diciamo, a mantenere tutto in equilibrio? Sicuramente, come ho detto prima, questo ruolo è un ruolo particolare, come ha detto anche lei. È da interfaccia la società con i allenatori, con i genitori. È un po' particolare, molto delicato, che si devono usare le giuste maniere, i giusti modi. Però fino ad ora dobbiamo dire che siamo molto soddisfatti perché abbiamo circa 130 ragazzi tra il settore giovanile per la prima squadra e la scuola di calcio A5 che è milita nel campionato di calcio di C2. Dunque, 130 ragazzi. In realtà, come Noce alla Ombra, credo che si sta facendo un ottimo lavoro. Per raggiungere gli obiettivi con ogni singolo ragazzo sul piano tecnico motorio della coordinazione, con quali programmi si basa? Sicuramente noi ci basiamo un po' su quello che è una struttura formata da tutti gli allenatori che hanno il patentino, tesserino, chiamatela come volete, licenza, in questo momento si chiama, che dispongono di questo brevetto che ovviamente ogni squadra ha in sé un allenatore e come avete visto anche a volte un collaboratore. Abbiamo come anche un ragazzo che è laureato ISOF che anche lavora sotto l'aspetto motorio e coordinativo dei ragazzi fino dai piccolini, che avete visto prima là in fondo, fino ad arrivare alla Juniors, che ne è pure allenatore per far sì che questi ragazzi siano sempre più preparati e pronti per qualcosa di più importante in futuro. Presidente, facciamo un bilancio della sua gestione. Ha realizzato tutto quello che era nei suoi progetti o manca qualcosa? Beh, assolutamente sì. E noi, dal 2017 che faccio il presidente, io devo dire la verità, ma non è tutto merito mio. Come dicevo prima, è tanto merito di tutti i collaboratori, perché tutti i giorni si danno da fare. Io tante volte chiedo a loro, dico la verità, sono sincero, chiedo a loro quello che è meglio fare oppure no. Ecco, perciò sono molto soddisfatto di loro e dico la verità, ogni anno abbiamo migliorato qualcosa sotto tutti gli aspetti, sia tecnici che organizzativi e perciò sono molto contento. Allora, nella scelta dei suoi collaboratori per formare lo staff tecnico, di che cosa tenete conto? Sicuramente teniamo conto di una dote morale importante, soprattutto perché, come ha letto il presidente prima, l'obiettivo principale è quello di insegnare rispetto, educazione, migliorare anche le doti caratteriali di ogni ragazzo che sono tutti diversi e ovviamente poi in seconda battuta l'aspetto tecnico di ogni allenatore. Cerchiamo, siccome anche la scelta dei giocatori, di cercare ragazzi qua della nostra città per iniziare questo percorso dall'allenatore, infatti molti ragazzi vengono proprio dalla nostra squadra per poi andare a prendere il tesserino e poi allenare le squadre del settore giovanile. Sicuramente quello che facciamo è questo, sia un percorso prima a livello caratteriale e poi a livello tecnico. Ritorniamo dal presidente. Allora, la sua posizione richiede sicuramente saggezza e equilibrio nelle decisioni societarie. Con quali punti fermi ci riesce? Praticamente, non so che dire. Naturalmente bisogna essere sempre presenti, spendere il più tempo possibile, che non è facile perché tutti quanti praticamente abbiamo degli impegni lavorativi, abbiamo tutti da fare altre cose e perciò lo facciamo a tempo libero e impieghiamo il nostro tempo libero sia io che tutti i collaboratori proprio per portare avanti la società e questo penso che sia una cosa molto bella. Vorrei approfittare per ringraziare tutti gli allenatori del settore giovanile, li vorrei citare uno a uno perché mi fa molto piacere e che sono dall'Unior S. Michele Berzellini, Pierluigi Rosa della categoria Esordienti, nonché responsabile tecnico, Marco Albanesi della categoria Giovanissimi e poi andiamo con la categoria Pulcini con Ivan Cetorelli, poi andiamo con Stefano Mattioli della categoria Piccoli Amici e Maurizio Lonardi della categoria Primicacci che è anche il responsabile dei portieri del settore giovanile. Grazie, uno staff sicuramente preparato e all'altezza. Un'ultima domanda per il Presidente. Ha mai pensato di voler mollare tutto? Ma no, se loro... io vorrei mollare ma... però poi uno magari praticamente spende il proprio tempo per la società è una cosa bella, insomma, ecco, perché se ognuno di noi facessimo qualche cosa per il Paese penso che sia una cosa giustissima, insomma, e si andrebbe molto meglio. Anche perché noi siamo un Paese piccolo, se tutti tiriamo indietro non ci rimane niente. Bene, noi di Studio 90 ringraziamo il Presidente Emilio Ansuini che è stato con noi, grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamo anche il responsabile Michele Piermatti. Grazie mille a voi. Avete conosciuto l'ultimo settore giovanile della stagione, del Nocera Umbra e adesso linea lo studio.